Alleluia 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 Il Signore si è animato a noi Adesso l'Aggelo secondo Pete Adesso l'Aggelo In questo tempo Jesu disse più sempre Voi siete sempre nella regra, ma siete sempre per il sapore, con che corso lo siete razzati. Anoravamo sempre che adesso è sentato in via e caprescato alla gente. Voi siete all'unico del mondo, non vuole stare nascosto alla città che sta sotto il mondo, né se sembra nascosto alla gente da sotto il mondo, ma su come l'arco. E così traduzia tutti quelli che sono nella gasta, così rispetta la vostra luce della matrimonio, e che vengono la nostra vita del mondo, e rendono il mondo il pane vostro, e insieme. La nota del Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra missione, la missione stessa di Gesù, che è il Shafi. La prima lettura del profeta, il Shafi, è il Shafi, il Shafi, il Shafi, il Shafi, il Shafi, il Shafi. Grazie a tutti. 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 ma sappiamo la funzione pensata, il sangue glorifica, il cipetta e la sapore, e la voce illumina il cristiano. E così noi cristiani dicevano che Gesù deve essere la domanità per tutta la storia e per tutta la storia di Cristo. E così i cristiani devono essere sani da Dio, devono inferire che l'umanità si corrompa e per tutta la storia di Dio. E così possiamo interagirarsi come Gesù si era arrivato a fare i supervergoni del sangue nella nascita. Probabilmente guardando le sponte della moto, la moto che è un lago, un lago di uso, e il sottoposto del mare, un confuso, un caldo e tanto sale si era arrivato a sulle sponte. Allora, Gesù guardando, come si è il nome, un figlio, il sangue, 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 il Dio è buono, è buono, è buono, è buono, tu ne hai anche Gesù, Gesù è buono perché è generoso, perché è propria a tutte le nostre necessità. E nella seconda domanda, la cosa che parla, l'Unione dell'Unione dell'Unione, presenta quattro fattori della vera fede. Noi siamo credenti, forse a volte non rifiutiamo, non sentiamo conto come arriviamo a pregare. Per questo non rifiutiamo a pregare la vera fede, è la testimonianza di Dio. Non solo noi chiamiamo la testimonianza a Dio, posso dire che è la testimonianza a Dio, ma anche Dio, la testimonianza a Dio. Di che cosa Dio dà la testimonianza a Dio? Non soltanto il Dio ci sarà per seguire, io ci do, io ci do per te, per Dio. Ti ama, ti ama senza condizioni, senza sé, senza amare. Questo è l'inconfortore, l'amore di Dio, per Dio. Secondo fatto della mia fede, esporta alla fede, è Gesù Cristo Cristo. La prima parola che Gesù ci ama è il dono di Gesù, Gesù Cristo Cristo. E terzo fatto della mia fede, è il dono di Gesù Cristo Cristo, di verità, di amore, di santificazione. E infine, il quarto sottore, è la potenza di Dio. Ma nel tuo programma, è il dono di Gesù Cristo, ma è il dono di Gesù Cristo, sia la grazia. Il quarto sottore, il dono di Gesù Cristo, sia il dono di Gesù Cristo, sia il dono di Gesù Cristo, sia il dono di Gesù Cristo. Grazie.